Buon poveriggio, la prima corsa è il premio Gitana d'Azolo, c'è stato il ritiro dopo una sgambatura insoddisfacente del numero 6 Satanassofi e dunque sono rimasti in 7 al via. Prima fila per Jmidra, Stripe e K, Stanislaus Hans, Solocaf, Sesamoggette e Sirio Dino. Seconda fila da oggi con il numero 8, sono 7 cavalli in prima fila. Dicevo, seconda fila per il numero 8, Sabaudo Lewis, vi ricordo, ritirato il numero 6 Satanassofi. Poco prima dello stacco cerca di emergere con il 3, Stanislaus Hans, al cui interno reagisce con il 2, Stripe e K, rompe invece Jmidra. Insiste Stanislaus Hans, si oppone ancora Stripe e K, in terza posizione si è andata a mettere Sirio Dino davanti a Solocaf e Sabaudo Lewis. Insiste all'esterno Stanislaus Hans, sopra avanza Stripe e K che però col favore della curva rientra ancora all'avversario. Violento il quarto iniziale di gara con il quale Stripe e K ha respinto Stanislaus Hans che ora si accoda. 30 e mezzo il quarto iniziale ma da considerare il fortissimo vento di oggi, quindi parziali da tarare in base alla situazione. Stripe e K nel frattempo completa i 600 iniziali in 46 e 2 seguito da Stanislaus Hans e Sabaudo Lewis all'esterno di Sirio Dinovano in scia Sesamo Jet che chiude all'interno Solocaf. Con il leader che ora ha potuto riprendere fiato e va a completare il mezzo miglio iniziale in 1,3 scarso. 1,2,8 per la precisione con Stanislaus Hans che anticipa Sabaudo Lewis e si riporta sul leader. Quando siamo ormai in vista del completamento del giro iniziale Stanislaus Hans va a premere su Stripe e K mentre si completa il primo giro in 1,18,4. Insiste Stanislaus Hans e replica Stripe e K lungo la corda c'è Sirio Dinovano vicino Sabaudo Lewis, quindi una terza pariglia composta da Solocaf e Sesamo Jet. Una frazione ora molto veloce in poco più di 13 con Stanislaus Hans che insiste e tende a sopravanzare Stripe e K che però all'interno mantiene ancora la posizione. Poi Sirio Dinovano a ricerca del Varco. Siamo al paletto dei 200 finali con Stanislaus Hans all'esterno che cerca di prevalere per linea interna e Sirio Dinovano. A largo di tutti lo scatto di Sabaudo Lewis per linea interna e Sirio Dinovano. Nel finale Sabaudo Lewis all'esterno che sta prendendo il sopravvento. Vince Sabaudo Lewis su Stanislaus Hans e Sirio Dinovano piuttosto vicini per il posto d'onore. Vediamo la retta d'arrivo sul mio cronometro media di 1,16,1 per il vincitore Sabaudo Lewis numero 8 con Giampaolo Minucci. La vittoria di Sabaudo Lewis su Stanislaus Hans e Sirio Dinovano è 8. Grazie. 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 Grazie.